Buonasera, ben trovati alla seconda edizione del TG6 che noi apriamo tornando a parlare del dramma accaduto ieri a Giulianova in strada dove per una mancata precedenza un uomo ha coltellato Paolo Cialini, freddato davanti alla figlia di 7 anni. Vediamo nel servizio di Andrea Costantini il riepilogo di quanto accaduto. Il giorno dopo il ferrale omicidio che si è consumato in strada al centro di Giulianova resta lo sgomento all'incredulità che hanno portato alla morte un uomo, un marito e un padre di famiglia, una scena insensata quella che si è parata di fronte a chi ha assistito ad un momento di ordinaria follia che ha scardinato la routine di due persone che chi le conosce le definisce per bene, tranquille ed estremamente dedicate al lavoro. Una vita si è spezzata, quella del 47enne Paolo Cialini, tecnico informatico di una ditta di Mosciano Sant'Angelo, residente a Giulianova in via Galvani, non troppo distante dal posto dove si è consumato l'efferrato delitto, via Leorsini, all'incrocio con via Verdi. L'altra vita invece è rovinata, quella di Dante Di Silvestre, 60enne tecnico caldaista di Selva Piana di Mosciano Sant'Angelo e proprio per la sua attività molto conosciuto in città, rovinata da quella che è stata una vera e propria azione d'impeto, un raptus dal quale è parzialmente uscito alcuni istanti dopo aver sferrato la coltellata mortale, tanto che, dagli ultimi particolari che emergono, sembra essere stato proprio l'accoltellatore a chiamare i soccorsi del 118, tuttavia Vani, poiché dopo un primo tentativo di rianimarlo, l'uomo è espirato durante il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova. In stato di shock, l'uomo ha poi atteso l'arrivo dei carabinieri che lo hanno posto in stato di fermo per omicidio volontario, a rendere ancora più agghiaccianti quei minuti il fatto che quelle scene si siano svolte sotto gli occhi della figlia della vittima di soli sette anni, un trauma inaudito che la piccola, che era in macchina col papà, porterà per sempre dentro di sé. Dalla prima rissa, scaturita per una banalissima mancata precedenza, all'inseguimento del di Silvestre, che al suddetto stop si para con il suo fiorino davanti alla punto della vittima e lo fredda con una coltellata all'addome. Ulteriori dettagli si conosceranno al termine dell'esame autoptico odierno. L'accoltellatore nel tardo pomeriggio di ieri è stato portato nella caserma dei carabinieri, dove è stato ascoltato dal procuratore Guerriero e dal sostituto Scordamaglia. Subito dopo è stato trasferito nel carcere di Castrogno. Le parole del sindaco Mastro Mauro racchiudono i sentimenti della comunità giugliese. Quello che più inquieta e rattrista è che per un fatto così futile, una persona tranquilla, un artigiano stimato in città e in provincia, si sia trasformato in un feroce assassino, salvo poi ritornare dalla sua follia a un senso di risipiscenza chiamando l'ambulanza. Io esprimo tutto il mio sconcerto, nel contempo il cordoglio per le due famiglie, sia quella dell'assassino ma soprattutto, perché è stata sconvolta sicuramente, ma soprattutto per colui che ha perso la vita, una persona di 47 anni e per quella bambina che sedeva al suo fianco, la figlia di 7 anni, che sicuramente è stata colpita duramente da un episodio che ha vissuto in tutta la sua drammaticità. Un episodio di violenza, quello di Giulianova che lascia sgomenti, perché caratterizzato da futili motivi, secondo lo psicologo Fabrizio Mascitti, Dante Di Silvestre, è stato colto da un raptus che gli ha fatto perdere tutti i freni inibitori. Per quanto riguarda la figlia della vittima, una bambina di 7 anni, secondo lo psicologo la ferita della mente e dell'anima si potrà contenere con un lungo lavoro, ma non potrà mai essere cancellata. Ascoltiamo l'intervista con lo psicologo realizzata da Alfredo Primante. Fondamentalmente accade questo, siamo continuamente bombardati di notizie, di informazioni, c'è un trend negli ultimi anni che ci spinge a considerare normale la violenza, per cui in un momento in cui ci ritroviamo a che fare con un episodio, con una situazione che ci richiede una reazione aggressiva ma normale, accade che tutto quello che il nostro cervello ha preso nel tempo, in termini poi di normalizzazione della reazione aggressiva e dell'ampiezza di questa aggressività, venga poi messa in atto in un gesto che nulla ha a che fare con il nostro modo di fare, con la nostra coscienza, con la nostra morale. A quel punto in quella situazione viene meno quella forza, che è il nostro cervello di autoregolazione. Per cui a quel punto c'è una sorta di annullamento del tempo, dello spazio, ed è un po' come spingersi al di là della normalità, al di là della situazione specifica. E questo spinge poi addirittura a commettere quello che è successo a Giulia Nova, cioè ad assassinare una persona per una banale lite, addirittura davanti a una bimba di 7 anni, davanti alla figlia della persona che è stata assassinata, ragazzina che purtroppo a questo punto subirà notevoli conseguenze importanti. Ha subito quello che viene considerato un grande T, un trauma grande, importante, dovrà essere sottoposta a cure, ma sono cure che poi la seguiranno per tanti anni. Una ferita che difficilmente si può rimarginare. Assolutamente, si cercherà un po' di contenerla, ma la vita di questa ragazzina in qualche modo sarà segnata. L'uomo, stando ai racconti dei testimoni, è rimasto praticamente sul posto aspettando l'arrivo dei carabinieri. Ecco, magari la coscienza di quello che si è fatto è arrivata in un secondo momento. Esatto, infatti è giusto chiamarlo raptus, cioè c'è un momento, c'è uno spazio temporale, uno squarcio, nel quale la persona agisce senza il controllo e appena dopo riprende il controllo della situazione, si rende conto di quello che è accaduto e da quel momento in poi potremmo dire che è lucido. Da quel momento in poi si rende conto e lì agisce, da quel momento in poi agisce la persona che tutti conoscono. Ancora cronaca, resta ai domiciliari Stephen Collins, l'inglese 36enne accusato di omicidio plurimo aggravato per avere travolto e ucciso con la sua auto due uomini nel dicembre scorso a Martinsicuro. Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai suoi legali da alcuni mesi Collins e a domiciliari in una abitazione di Ladispoli. Il prossimo 5 ottobre comparirà davanti ai giudici per il processo con rito immediato. Secondo l'accusa, la sera dell'incidente l'imputato aveva bevuto molto, tanto da avere un tasso alcolemico di 6 volte superiore al consentito. Nonostante ciò, si mise alla guida della sua auto, della quale perse il controllo, travolgendo la vettura su cui viaggiavano Graziano Battistelli e Marco Iampieri, due marittimi del posto. Ancora cronaca, proseguono in tutto l'Abruzzo i controlli dei carabinieri del NAS di Pescara sulla filiera della carne. I militari negli ultimi giorni hanno ispezionato due strutture, un'azienda della provincia dell'Aquila per la macellazione di carne ovina ed un laboratorio per il sezionamento con annesso ristorante tipico in provincia di Pescara, riscontrando in entrambi gravi carenze circa 5 tonnellate di carne sequestrata a vincolo nell'Aquilano, mentre nel Pescarese è stata disposta l'immediata chiusura dell'attività. Lasciamo la cronaca, parliamo di economia perché nel 2015 in Abruzzo ci sono segni positivi per l'export, produzione e anche, seppur di poco, per l'occupazione, a dirlo il rapporto annuale di Banca d'Italia, Filippo Tronca. Dopo anni di segni meno la profonda fase recessiva che ha investito l'Abruzzo, nel 2015 si è arrestata, anche se permangono elementi di forte preoccupazione per l'economia della nostra regione. A dirlo il rapporto l'economia in Abruzzo a cura della Banca d'Italia, illustrato oggi in un convegno all'auditorium di Renzo Piano all'Aquila. La ripresa, si legge nel rapporto, è stata sostenuta principalmente dal buon andamento della produzione nell'industria, più 4-8%, trenata dalla crescita agli ordinativi sia dall'estero che sul mercato interno. In particolare l'attività produttiva ha mostrato una vivace espansione nel comparto dei mezzi di trasporto, più 14,9%. Le imprese di grande dimensione del manifatturiero hanno registrato incrementi della produzione, nettamente superiori rispetto alle piccole e medie imprese. Segnali positivi anche nel mercato immobiliare e dunque nel settore dell'edilizia, visto che il numero di compravendite, in calo da alcuni anni, è tornato a crescere del 7,2%. Inoltre il numero degli occupati, marcato calo nel bienno precedente, ha registrato un moderato incremento dello 0,6% e al vivace recupero del primo semestre è tuttavia seguita una nuova flessione a partire dalla seconda metà dell'anno e rimane ancora elevato il tasso di disoccupazione, pari al 12,6%. Emerge che innanzitutto c'è stato un cambio di passo dell'economia nel senso che dopo anni di contrazione finalmente vediamo segni più davanti a tutti i parametri più significativi, dal PIL innanzitutto alla produzione industriale, all'occupazione, al credito anche e persino nel campo delle costruzioni, cioè quello che era il settore più disastrato, diciamo così, c'è finalmente un segno positivo. Questo è sicuramente un fatto positivo. Scorporando infine i dati complessivi su scuola regionale si osserva che ad alzare la media in modo decisivo di produzione, export e occupazione sono solo alcune aree e alcuni settori, in primis il polo industriale della Val di Sangro dove la Sevele e il suo indotto macino numeri da record. In altri territori invece la fine della crisi non la si vede nemmeno con il binocolo. Quelli che tirano la volata diciamo sono le grandi imprese e mentre le piccole imprese faticano. Quali grandi imprese? Beh innanzitutto quella del Sangro Teatino, la Sevele che è quella che traina praticamente tutta l'economia abruzzese e anche con esportazioni di notevole peso. Certo questo è un fatto vero che bisogna mettere a fuoco cercando di arrivare a una distribuzione più lata del discorso. Cambiamo pagina, anche la Teramo Ambiente è aderito allo sciopero nazionale degli addetti all'igiene urbana, ennesima agitazione quella dei lavoratori teramani dettata dal rischio del mancato rinnovo del contratto Elisa Leuzzo. Allo sciopero che ha avuto inizio questa notte alle 4 hanno aderito tutti questa volta quindi riuscito al 100%? Sì, alla Team al 100% e anche in altre parti della provincia di Teramo, Giulianova, Vavvibrata eccetera. C'è una risposta che Teramo dà anche alla controparte che è al suo ambiente affinché si rinnova questo contratto nazionale. Oltre alla richiesta economica che noi facciamo perché sono quasi 30 mesi che il contratto è scaduto, siccome c'è da parte della controparte una richiesta che per noi è ricevibile, cioè quella di liberalizzare il mondo del lavoro dell'igiene ambientale, cioè in parole povere, mentre adesso quando c'è un cambio appalto l'azienda che vince deve riprendere tutti i lavoratori alle stesse condizioni che c'erano prima, cioè con il contratto FIS eccetera. La richiesta della controparte è quella di liberalizzare questi contratti. Questo significa da subito 300-400 euro in meno al mese con tutte le tutele che verranno meno. Purtroppo in coda a questi scioperi c'è il malcontento dei cittadini. La responsabilità certamente non sono dei lavoratori ma è di chi comunque non vuole rinnovare il contratto. Voglio dire un'altra cosa perché ho sentito delle interviste anche dei consiglieri comunali di Teramo. I lavoratori della Team oltre a essere dei cittadini per cui a non poter oggi come tutti i cittadini terramani togliere l'immondizia dentro casa oltre a questo questi perdono giornate di lavoro. Per cui insomma io credo che come sindacato non è che ci divertiamo a far perdere giornate di lavoro se facciamo lo sciopero, se facciamo lo sciopero perché ci sono delle richieste a cui noi vogliamo delle risposte. Cambiamo ancora pagina. Si infiamma la polemica sul progetto di installare un serbatoio per lo stoccaggio di 25.000 metri cubi di GPL nel porto di Ortona. In vista del consiglio comunale di domani sera gli ambientalisti chiedono alla politica una scelta forte per la salvaguardia del territorio. Una scelta antistorica e pericolosa. Così la rete di cittadini ed associazioni ambientaliste bollano il progetto di installare nel porto di Ortona un serbatoio da 25.000 metri cubi per lo stoccaggio del GPL. Troppi i rischi per l'incolumità dei cittadini, troppo pesante l'impatto sulla viabilità ortonese, troppo alto il rischio di uccidere il settore turistico della zona già in difficoltà. Poi c'è il capitolo dell'istituzione del parco della costa teatina, provvedimento fermo ancora a Roma. Secondo gli ambientalisti lo stoccaggio del GPL andrebbe contro la vocazione naturalistica di Ortona e della costa dei trabocchi. C'è un mercato tendenzialmente mondiale che va in tutta altra direzione. Ormai si parla di efficientamento energetico, di fonti rinnovabili e di mobilità sull'elettrico. Solo il mercato italiano è un'anomalia che comunque non reggerà nel lungo periodo. E' contro il territorio perché su quel territorio sarà a breve istituito il parco nazionale della costa teatina che inspiegabilmente è ferma presso la presenza del Consiglio dei Ministri e continuiamo ad avallare delle realtà che sono economia di scale spot per delle aziende che continuano a puntare su mercati antistorici. Domani alle 18 all'interno del Consiglio Comunale di Ortona si tornerà a parlare del progetto. Le associazioni chiedono al sindaco e alla politica di ascoltare i cittadini e di fare una scelta forte per la salvaguardia del territorio, per l'implementazione della green economy e del turismo verde. Molti introiti li stiamo perdendo, ogni anno abbiamo tantissimi problemi per far venire gente a vedere i nostri bellissimi posti. Adesso questo progetto qui ci dà l'ultimo colpo sulla testa. Facciamo l'esempio del Trentino che solo in un anno fa un introito di 85 milioni di euro per il bike. Noi che abbiamo un territorio che è proprio evocato a tante forme di turismo non lo sfruttiamo al massimo. Noi parliamo ora di sanità e torniamo a Teramo perché una delle eccellenze del nosocomio Teramano potrebbe perdere. Il suo primario Marco Deusanio è arrivato poco più di un anno fa a dirigere il reparto che fu del padre Giuseppe. Potrebbe infatti approdare alla direzione dell'omologo reparto dell'ospedale di Ancona. Sull'argomento questa mattina abbiamo ascoltato il manager della ASL Teramana, Roberto Fagnano. L'ospedale Mazzini di Teramo sta perdendo o no il primario di cardiochirurgia? Come risponde ai rumors? Allora, sotto l'aspetto formale noi non abbiamo alcuna notizia perché i rumors che fa riferimento ovviamente a una graduatoria pubblicata presso l'azienda ospedaliera di Ancona per l'analoga della disciplina e che vede il dottor Deusanio primo classificato, ovviamente può lasciare presupporre questo, però questa è una scelta legittima dell'interessato, sia quella di abbandonarci e quindi verso altre attività probabilmente più qualificanti, oppure quella di restare. Vedremo nel momento in cui ci saranno i tempi tecnici perché l'interessato possa fare la scelta, quale sarà questa scelta? La cosa è che la cardiochirurgia a Teramo c'è, resterà e resterà sempre. Su questo punto se ci saranno scelte di questo genere l'azienda immediatamente e tempestivamente farà e adotterà soluzioni altrettanto qualificate. Comunque conferma che eventualmente è una scelta personale del primario? Io ritengo di sì, al di là delle difficoltà oggettive che esistono all'interno dell'azienda per quello che concerne l'organizzazione di tutti i servizi, come tutte le aziende di piano di rientro, le limitazioni di personale che pure esistono, io non sono a conoscenza di motivi specifici per cui è stata fatta una scelta di questo genere, se scelta ci sarà. Qualora non ci fosse stato un direttore di unità operativa complessa di cardiochirurgia, in quel momento, cioè qualche mese fa, certamente saremmo stati deboli sul piano della rappresentazione delle nostre qualità in ambito regionale. Ovviamente, logicamente, la scelta della Regione era basata anche sul fatto dell'organizzazione esistente a Teramo. Cambiamo ancora pagina, taglio del nastro questa mattina a Montesilvano. Il sindaco Francesco Maragno ha presenziato infatti all'inaugurazione del nuovo tratto della pista ciclopedonale e ha annunciato un'estate all'insegna della sostenibilità ambientale. Francesca Romana Testi. Promessa mantenuta per il comune di Montesilvano, che oggi inaugura ufficialmente il nuovo tratto di pista ciclabile. Nuova segnaletica a terra, spazi dedicati agli amanti delle bici e più sostenibilità per un territorio interessato da grandi flussi di traffico. Abbiamo implementato lo spazio della pista ciclabile, l'abbiamo messa a norma. Siamo tra i comuni virtuosi che hanno rispettato gli obiettivi prefissati. Questa sicuramente diventerà una strada di collegamento fondamentale per il cicloturismo all'interno del territorio dell'Abruzzo. Collegherà sostanzialmente il Molise alle Marche. Noi volevamo esserci, volevamo essere i primi e per quanto riguarda il tratto di nostra competenza lo siamo. Oggi inauguriamo questa splendida pista ciclabile rimodulata in base alle esigenze del codice della strada. Sulla scia dei risultati ottenuti con le domeniche ecologiche, il sindaco Francesco Maragno annuncia un'estate all'insegna di spettacoli e pedonalizzazione del lungomare per vivere la città senza smog e renderla più a portata di bambini e famiglie. Dalla fine di giugno tutte le sere chiuderemo al traffico la riviera. Un tratto della riviera più consistente rispetto a quello dello scorso anno perché vogliamo dare la possibilità ai montesilvanesi e ai turisti di riappropriarsi dei propri spazi, di vivere la città a piedi in bicicletta con i pattini e sostanzialmente di diventare padroni della propria città. L'anno scorso è stata molto gradita questa iniziativa, quest'anno la riproponiamo, facendo diciamo così da contorno, mettendo da contorno una serie di iniziative culturali e musicali che tanto piacciono ai turisti e ai residenti. In occasione della giornata della ricerca l'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ha illustrato questa mattina i risultati della ricerca relativi all'anno 2015. Un evento che rappresenta l'annuale incontro per gli operatori della sanità pubblica veterinaria italiana concepito come momento di scambio di dati e condivisione di risultati di progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute con particolare attenzione a quelle concluse nell'anno 2015. Un appuntamento annuale che noi abbiamo per in un certo senso giustificare con i nostri sponsor, in questo caso il Ministero della Salute, tutte le attività che noi facciamo, i risultati che abbiamo ottenuto grazie ai finanziamenti del Ministero della Salute e come ogni anno è una giornata importante, una giornata dove vorrei che l'Istituto avesse visibilità per le attività che fa, per i risultati che ottiene. Affrontiamo diversi settori, diverse aree che vanno dal benessere animale, dal settore riduzione e sperimentazione animale, dall'igiene degli alimenti, il problema della listeriosi che è un problema attuale, fino alla vaccinazione, a produrre, a sviluppo vaccini nei confronti di malattie che attualmente non sono presenti in Europa né in Italia, che però sono presenti in territori confinanti come per esempio la peste dei piccoli ruminanti che è chiaramente l'Istituto nel suo ruolo di centro di referenza nazionale per le malattie esotiche ha il dovere di controllare ed eventualmente sviluppare presidi, in questo caso immunitari vaccinali, per poter poi eventualmente in un possibile ingresso di queste malattie all'interno del territorio nazionale europeo, avere la possibilità di poterle affrontare mediante questi presidi messi appunto sviluppati grazie ai finanziamenti del Ministero della Salute. E ora andiamo a Loreto Abrutino per conoscere insieme il cartellone degli eventi estivi. Noi del Club Alpino Italiano abbiamo pensato di partecipare a questi eventi del 2016 perché festeggiamo il nostro decennale, però non abbiamo pensato solo all'escursionismo e a passeggiare, ma bensì vogliamo mettere in evidenza il nostro centro storico che è molto bello da visitare, infatti venerdì faremo un trekking urbano visitando i musei e poi con un bel coro che chiude la serata. Il sabato ci sarà l'arrampicata sportiva sempre al centro storico, poi con una finale in Torre d'Arrampicata a Piazzale Monumento e la domenica festeggiamo con tutti i presidenti d'Abruzzo a Torre delle Valli, abbiamo fatto questo invito per scoprire ancora il nostro territorio che è molto bello da vedere e da visitare dove noi poi, grazie alla famiglia Carboni, portiamo i ragazzi della scuola e facciamo attività a 360 gradi. Vi invitiamo a partecipare a questo bellissimo evento. È stato presentato un cartellone estivo dove tutte le associazioni, i partecipanti dopo tante riunioni che sono partite fine dall'autunno scorso, riusciranno a presentare i propri lavori, i propri interessi, non solo alla cittadina ma a chi vorrà visitare l'Oredo in questi giorni. Sono quattro fine settimana ricchi con interessi diversi che vanno dalla street art al teatro, agli stand gastronomici, all'apertura di sentieri del CAI, alla premiazione anche della pagella d'oro, quindi gli interessi sono tantissimi. Sono sicuro che riuscirà e che questa tradizione in cui le associazioni sono riuscite a confrontarsi, a dialogare, a costruire qualcosa insieme, aiutati, questo bisogna dirlo, dall'amministrazione e dal nostro my sponsor che è la Vestina Gas. Ciò ricadrà soprattutto sul benessere dell'intero comprensorio e di l'Oredo in particolare. Torniamo a Pescara per parlare dello stadio adriatico perché in vista della prossima stagione ci saranno lavori urgenti da portare avanti proprio nelle prossime settimane che riguarderanno soprattutto le due curve. Ascoltiamo l'assessore allo sport Giuliano Diodati. Assessore Diodati, Pescara in Serie A, problemi però per lo stadio adriatico in vista della prossima stagione. Il fatto di essere andato in Serie A se da un lato è una gioia per la città, da un altro lato è complicato per l'amministrazione comunale. Lo stadio non ha ancora tutti i requisiti per poter accogliere le partite di Serie A perché noi abbiamo dovuto fare dei lavori di risistemazione provvisoria delle due curve per infiltrazioni e problemi di staticità di queste due strutture per poter permettere ai tifosi di assistere alle partite dei playoff. Adesso dovremo provvedere invece a trasformare questi lavori provvisori in lavori definitivi e quindi fare in modo che lo stadio diventi assolutamente fruibile. Nostra volontà, nostra intenzione è assolutamente quella di non privare la città della propria squadra, del cuore e quindi noi ci stiamo attivando per reperire le risorse e i fondi per poter permettere la risistemazione strutturale dello stadio adriatico entro i tempi consentiti e quindi entro l'inizio del campionato di Serie A. C'è poi il problema dell'adeguamento dello stadio adriatico e qui sorge un altro problema, quello con la sovrintendenza. Riprenderemo a brevissimo i rapporti con le interlocuzioni con la sovrintendenza per vedere un attimino da poter uscire da questo impasse che purtroppo è legato a questa situazione. Questo servizio ci introduce alla pagina sportiva, parliamo proprio del Pescara perché in queste ore i dirigenti biancazzurri stanno parlando con la Juventus per l'eventuale cessione di Lapadula, anche Caprari dovrebbe finire in bianconero però potrebbe restare un'altra stagione in biancazzurro. Per quanto riguarda invece gli arrivi al Pescara interessano Monachello e Trotta, si lavora anche alla conferma di Crescenzi e Verde per la difesa nelle ultime ore. È spuntato anche il nome dell'ex lancianese nella scorsa stagione al Novara, il difensore Magnus Trest. Vediamo. Resta Gianluca Lapadula il nome al centro delle trattative di mercato che ruotano intorno al Pescara. Un mercato che il presidente Sebastiani potrà meglio indirizzare nel suo complesso una volta che si conoscerà l'epilogo di quella che potrebbe diventare una vera e propria telenovela. Nelle ultime ore tra le due principali litiganti, Napoli e Juventus, si è inserito di prepotenza il sassuolo di Eusebio Di Francesco. Il patron Squinzi sarebbe disposto a mettere sul piatto 8 milioni e mezzo di euro per accaparrarsi il capocannoniere della Serie B, dando anche in prestito l'eventuale sostituto Marcello Trotta, giocatore che piace molto a Oddo. Trotta ha fatto molto bene ad Avellino dopo una lunga esperienza in Inghilterra. Lo scorso gennaio è passato al sassuolo dove ha giocato poco. Pescara potrebbe essere la piazza giusta per esplodere in Serie A. Resta forte il pressing del Napoli per Lapadula, anche se il presidente Sebastiani potrebbe spingere il calciatore verso la Juventus in una più ampia trattativa che comprenderebbe anche il gemello del gol Gianluca Caprari con la vecchia signora. Il Delfino ha discorsi aperti in atto, quali il riscatto di Fiorillo e il prestito per la prossima stagione di Mandragora. Questioni che potrebbero complicarsi qualora Lapadula scelga di giocare all'ombra del Vesuvio. Il Napoli però può mettere sul piatto anche una contropartita come il prestito del portiere Luigi Sepe, ex Virtus Lanciano, giocatore già noto anche al DS Inpectore del Pescara. Luca Leone pronto a raccogliere l'eredità di Giorgio Repetto. In uscita dal Lanciano Leone potrebbe sedersi a tavolino con l'Atalanta per discutere del prestito di un altro calciatore noto in Abruzzo, l'attaccante Gaetano Monachello. Per l'attacco resta possibile anche il nome dell'uruguayano Nico Lopez in forza al National Montevideo ma di proprietà dell'Udinese. Con il club dei Pozzo il Pescara vorrebbe ridiscutere la possibilità di riavere Valerio Verre ma la strada sembra in salita. Nelle prossime ore il Delfino discuterà con la Roma le posizioni di due giocatori di proprietà dei Capitolini, il difensore Alessandro Crescenzi e il fantasista Daniele Verde. Entrambi erano approdati con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Ora va trovato un accordo per la loro permanenza in Rival Adriatico. Scendiamo di categoria Lega Pro, parliamo del Teramo. Nel prossimo servizio andiamo ad ascoltare l'intervista realizzata da Jacopo Forcella con il direttore sportivo bianco-rosso Fabio Lupo. E' un mercato in una fase iniziale di sondaggio ma siamo molto attenti e molto concentrati su ciò che può essere la cosa giusta per il Teramo. Se possiamo fare un nome probabilmente Speranza è l'uomo più vicino alla permanenza, puoi seguire Amadio, Scipioni, Cenciarani invece proprio no. Ci sono anche altri che hanno dato già adessione al nostro progetto, Caidi, Dorazio, lo stesso di Paolo Antonio, Petrella. Speranza è sicuramente un leader di questo gruppo e quindi noi abbiamo grande rispetto per lui e proprio per questa ragione attendiamo che lui prenda con tranquillità e serenità la decisione che ritiene corretta. Noi gli abbiamo proposto di restare con noi ancora per il prossimo anno o anche per di più se lui lo riterrà opportuno. Lui l'ha presa con grande gioia questa nostra proposta perché è stato un attestato di stima nei suoi riguardi così come abbiamo fatto con altri. Però non ci facciamo condizionare poi eccessivamente da eventuali evoluzioni del mercato che possano portare anche un giocatore a prendere altre strade. Vorrà dire che noi andremo anche noi su altre strade. Senta, se ne è parlato poco. Alessandro Tonti, com'è la situazione tra i pali? Alessandro viene da una stagione onestamente non semplicissima dopo una stagione invece straordinaria. Quindi un portiere che obiettivamente ha un suo valore, ha una sua dimensione e anche lì siamo in una fase di valutazione insieme a lui. Anche lui deve capire se per il portiere è ancora più complicata la valutazione sotto l'aspetto psicologico. Rimanere in un ambiente di cui sente la fiducia o viceversa. Con lui stiamo valutando anche la possibilità di rimanere. Oppure se dovesse avere prospettive di uscita le valuteremo insieme a lui. L'ultimo, Margiotta. Francesco Margiotta. È l'uomo più vicino a quello che avete puntato con maggiore attenzione? È uno dei nomi che abbiamo puntato, sui quali stiamo lavorando. Stiamo lavorando anche su profili di giocatori simili perché Margiotta è un giocatore che ha fatto molto bene l'anno scorso. Ha anche lui delle aspettative, anche lui si sta guardando intorno e come lo fa lui lo facciamo anche noi. Siamo al ciclismo. Polemiche a non finire dopo l'annuncio di questa mattina dell'annullamento dell'edizione 2016 del Trofeo Matteotti. Noi questo pomeriggio siamo andati ad ascoltare il patron della manifestazione, Renato Ricci. Presidente Ricci, quest'anno non si farà il Matteotti. Lei lo ha comunicato attraverso un comunicato stampa proprio poche ore fa ed è successo il finimondo, se così possiamo dire, sono arrivate telefonate da tutta Italia. Come mai questa decisione e se si è già pentito di tutto questo dopo le manifestazioni di affetto che sono arrivate in queste ultime ore? Sicuramente non mi sono pentito. La notizia io la potevo dare tranquillamente anche dieci giorni fa, ma per rispetto della Pescara Calcio di Daniele Sebastiani che è un carissimo amico, appassionato per lui di ciclismo, non volevo turbare una festa che abbiamo sentito tutti, compreso la città di Pescara, quindi compreso anch'io. E quindi ho atteso un momento più tranquillo per dare questa notizia, ma ormai io l'avevo già in mente di fare e l'ho fatto. Infatti abbiamo già fatto il comunicato alla USEI circa dieci giorni fa per cancellare la corsa quel giorno e credo che si stanno scatenando in tutta Europa per prendersi quel 17 luglio di domenica che la Polonia in primis, che ha bisogno e ha fame di ciclismo, sicuramente prenderà la Polonia quel giorno. E ha parlato di scarso interesse da parte delle istituzioni locali. Io devo ringraziare il Presidente della Regione D'Alfonso perché l'anno scorso ha fatto di tutto per far sì che il Matteotti non si fermasse già l'anno scorso e l'abbiamo fatto, ci ha aiutato e ci ha aiutato in tutti i modi per farcelo fare, l'abbiamo fatto. Poi ho detto non ci sono stati i presupposti per affrontare questo 69esimo trofeo Matteotti perché non potevo io garantire al 100% la spesa e quindi non ho avuto nessun colloquio positivo da parte dell'istituzione. Punto. Io non ho forzato nessuno. Con il ciclismo siamo giunti al termine della seconda edizione del TG6. Vi ricordo questa sera alle 21 l'ultimo appuntamento stagionale con Virtus Style per parlare del Lanciano. Per quanto concerne la terza edizione del TG6, l'appuntamento è alle 23. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.